Napoli con il commento originale 1-0 Napoli E' il pocio Slalom speciale La pressione di Agostini Ancora Quagliarella Ecco Amsic Spazi stretti Amsic ha spazio per andare sinistro Marchetti Palla verso Amsic Ancora Amsic Torna sul sinistro Amsic si coordina Palla sul fondo Cambia completamente lato Verso Zuniga Vediamo se ci arriva Pisano Palla precisa per Zuniga Che la tiene in campo Dentro va Quagliarella Si fa vedere anche Amsic Che potrebbe dare una mano Eccolo Amsic Riceve questo pallone Torna sul sinistro Amsic Occhio al calcio d'angolo Parte proprio Amsic Palla messa fuori E poi in due tempi Arriva il gol del 2-0 2-0 per il Napoli Con l'esultanza di pazienza Lazzari Palla verso Matri Dentro c'è l'Arrivey Cross Marmido Grande scelta di tempo 2-1 Con l'Arrivey Che rimette in partita Il Cagliari Grande combinazione Sull'out Matri da Arrivey Nuovo cross Palla dentro Deviazione 2-2 Il pareggio di Matri 2-2 2-2 Matri Palla dentro Pazienza Clamoroso Clamoroso Come un gol Questo salvataggio È come un gol Occhio al cross Dentro Verso Ceda 3-2 3-2 3-2 Ceda Al primo pallone E il Cagliari All'ultimo respiro Amsic con il pallone verticale Grava lo può difendere In dieci il Napoli La battuta dentro Colpo di testa Marchetti E Bobogliasino Gole 3-3 Gole 3-3 Esulta Lavecci Esulta Lavecci Al 51esimo Gol Urla Lavecci Che finale Incredibile Di partita Di partita